di una stagione che sicuramente è stata positiva anche per l'esordio di tanti giovani in prima squadra e obiettivo principale del direttore generale dell'Egnago Mario Preto e della dirigenza Valtolina Spampatti al tredicesimo poi c'è ancora Spampatti mentre dall'altra parte la mezz'ora c'è Tommaso Rella che si procura di mestiere un calcio di rigore ingannando il giovanissimo immagino difensore al suo controllo c'è calcio di rigore il baffuto Tommaso Rella non sbaglia gol del vantaggio dell'Egnago 1-0 la ripresa si apre ancora con il Legnago Cavallini lancia Berberi che ha una bella chance per il 2-0 difesa del Pro Sesto poi che rimedia in qualche maniera con avete visto un giocatore biancazzurro della Pro Sesto protestare con i guadrine per non aver alzato la bandierina dall'altra parte c'è il gol del pareggio di Valtolina un bel gol però viziato dal gol subito da parte di Budicin tra palo e portiere per quel poco che ne so di calcio insomma quello è zona presidiata e presidiabile assolutamente dal numero uno portiere che non dovrebbe da quella parte prendere pigliare pigliare gol ancora il Pro Sesto con l'intentativo palo di Donghi su giocata di Spampatti finisce 1-1 buon punto dell'Egnago a Pro Sesto Un punto a senza Cagiovanni un risultato importante che potevano anche essere tre punti o no? Sì sicuramente loro ci hanno infilato su questo giro palla e su una palla quasi dal fondo è stato bravo Valtolina a tirare in porta e a infilarci sul primo palo bravi però c'è anche da dire che l'abbiamo affrontata bene la partita Spampatti oggi non ha segnato anche se ha aggraziato il Legnago subito ma poi è stato controllato sempre molto bene Sì adesso è stata controllata tutta la Pro Sesto non solo lui anche perché studiando le partite lavorando settimanalmente quindi si riescono a fare cose molto più che positive Valente non ha giocato subito perché era un po' acciaccato? Sì aveva questo problemino al flessore ma niente di che bisogna far respirare quelli che magari hanno dato qualcosina in più nelle partite precedenti Adesso due partite in casa? Sì due partite in casa partita per partita l'affrontiamo nella maniera giusta con la giusta umiltà perché la quota salvezza bisogna raggiungerla il più presto possibile Pareggio a Sesto San Giovanni del Legnago che forse poteva fare colpaccio Sì c'è da dire che noi avremmo firmato il pareggio prima della partita visto poi l'esito del campo che eravamo in vantaggio 1-0 abbiamo butto all'inizio del secondo tempo una palla netta con Berberi davanti a solo al portiere il difensore è riuscito a superarlo con il tiro e il difensore è riuscito a respingere sulla linea la palla peccato lì forse se andavamo su 2-0 forse potevamo chiudere la partita Che dire di Baschirotto che è capitano della nazionale Anda 17? È una grande soddisfazione per lui e anche per noi Adesso deve pensare a calarsi in questa situazione dove sicuramente lì deve essere un po' il vecchio di quel gruppo visto che è uno dei pochi 96 che stanno giocando in Serie D quindi contano sulla sua esperienza visto che ha già fatto più di 20 partite in Serie D Quanti punti per la salvezza ancora? Credo sopra i 40, credo sui 41-42 punti però adesso bisogna vedere quelle dietro quanto corrono perché noi ce la giochiamo con Castellana, Alzano e Mapello non so i risultati di oggi per cui in base a quanto hanno crociato su di noi so che la Castellana ha vinto ma non so i risultati di Mapello e di Alzano e la quota salvezza si alzerà o si abbasserà in base a quello che fanno queste squadre Tommaso Lella è tornato al gol sia pur su rigore e lottava a rete stagionale come è nata l'azione che ha portato a rigore? Intanto i rigori bisogna segnarli che è importante adesso non mi ricordo chi ha lanciato Berberi me l'ha spizzata bene sono andato sulla palla dietro il difensore poi ho visto che non era facile metterla giù ho cercato il contatto lui mi ha spintonato mi sembra un rigore abbastanza netto poi è andata bene l'ho calciato lì spesso lo calcio lì Pubblico un po' inferocito con Lella come mai? Normale pubblico di casa rigore magari secondo loro un po' discutibile sta nel gioco del calcio insomma che il pubblico pagante possa dire quello che vuole Che legnago si è visto oggi in attacco? Un legnago concreto un legnago che ha cercato comunque di fare una partita intelligente i primi minuti secondo me abbiamo sofferto un po' perché non trovavamo le distanze poi invece siamo venuti fuori molto bene e mi trovo molto bene con Oltian insomma abbiamo cercato di stare vicini e queste sono partite insomma adesso ci stiamo avviando verso la fase calda quindi dobbiamo cercare di fare più punti possibili Comunque è un punto importante Importantissimo come ho già detto insomma adesso ogni partita diventa decisiva perché adesso ci mancheranno insomma sette punti per essere tranquilli speriamo di farlo il prima possibile e tornare alla vittoria che manca da un po' magari in casa sarebbe bello un po' di aiuto anche da parte del pubblico che di solito è un po' freddino appunto grazie a tutti